lo stop alla pesca del gambero un danno enorme per i pescatori e i ristoratori del territorio attualmente non sono previsti i ristori il settore chiede come facciamo a lavorare soltanto 100 giorni all'anno consegnato l'esculapio d'oro ai sanitari scelti dal comitato assistenza malati tiguglio un riconoscimento esteso a tutti i medici infermieri ausiliari impegnati nella lotta al covid la fede è matura se al centro c'è dio e non i nostri bisogni all'angelus il papa ricorda che all'invito del vangelo si deve rispondere con gratuità e senza calcoli canevale ha celebrato san giacomo la piccola comunità fontanina si è presentata al vescovo in un clima di festa e familiarità da settembre torna l'orario prolungato all'asilo gb rocca di cogorno con ingresso alle 7 30 e uscita alle 17 le iscrizioni sono aperte un anno bello ma difficile quello appena concluso un saluto a tutti e bentornati al nostro telegiornale niente più pesca del gambero astrascico in profondità sino alla fine del 2021 in tutto il martirreno è il provvedimento preannunciato dal ministero su spinta dell'unione europea e che si concretizzerebbe in uno stop immediato una decisione che penalizza e danneggia i pescatori e ristoratori del territorio sentiamo perché rabbia e preoccupazione per i pescatori dopo la circolare del ministero che preannuncia il blocco alla pesca del gambero raggiunta la quota prelievo stabilita dall'unione europea il fermo si protrarrebbe sino al 31 dicembre un danno enorme dopo oltre un anno di pandemia solo adesso le barche stavano riprendendo l'attività a pieno regime noi abbiamo un fermo biologico dopodiché lo stato ci ha imposto altre 37 giornate di fermo tecnico in più adesso ci fermano io fino adesso ho lavorato 100 giornate voglio che chiunque mi dica come una società può funzionare lavorando solo 100 giornate all'anno lo stop al gambero a santa margherita ligure riconosciuto con la deco denominazione comunale di origine è un serio problema anche per l'indotto tutti i ristoratori ne vanno la richiesta col marchio d'eco anche adesso portofino l'ultimo ristorante ma non solo viene qua nella zona abbiamo pavia milano che vengono a comprare e che lo vogliono come al solito la menta carpi viene generalizzato un problema l'europa ha stabilito un tot di tonnellate di gambero da pescare ogni anno nell'area del mediterraneo occidentale e il governo italiano ha recepito la direttiva applicando una quota generale così sintetizza carpi chi prima arriva meglio alloggia chi fa una pesca più intensiva danneggia tutti gli altri qua c'è un modo di lavorare completamente diverso dall'alba al tramonto si rientra la sera si vende il pescato mentre ci sono altre marinerie che fanno 24 ore su 24 quindi continuamente uno sforzo di pesca enorme che comunque loro danneggiano le nostre tipologie di pesca meglio sarebbe allora applicare una quota per ogni barca altrimenti si ripeterà quanto sta accadendo in questi giorni con i pescatori che rischiano di non ricevere alcune indennità la politica non si espone conclude carpi e al ministero le idee sembrano confuse il dirigente donofrio chiede lo stop immediato al gambero il direttore generale rigillo parla invece di novembre o i due non si parlano oppure non lo so c'è qualcosa che non funziona come uno fa una circolare ministeriale e poi dopo qualche mese dopo esce il suo sottone dice no si blocchiamo la pesca del gambero fatemi capire ora veniamo a chiavari in una piazza nostra signora dell'orto gremita si è svolta la consegna dell'esculapio d'oro il riconoscimento del comitato assistenza malati tiguglio che compie 30 anni premiati i sanitari che si sono distinti durante la pandemia per la loro opera professionale e umana il servizio stasera siamo qui per onorare donne e uomini che sono stati in prima linea onorare non solo i premiati ma tutti quelli che hanno partecipato alla lotta del covid a tutti quelli che hanno assistito i nostri malati è un grazie sentito corale unanime quello che è andato a tutto il personale sanitario che si è speso in questi mesi contro il covid dal palco della trentesima edizione dell'esculapio d'oro il riconoscimento istituito dal comitato assistenza malati tiguglio le parole sono quelle della gratitudine e dell'invito a collaborare per il bene di tutta la comunità per prima cosa vaccinandosi ha esortato nel suo discorso il presidente del sodalizio giancarlo mordini ma anche lasciando da parte i campanilismi e le guerre di quartiere per dare una sanità efficiente e funzionale a tutto il tiguglio tanti i rappresentanti delle istituzioni che hanno portato il loro saluto sul palco allestito in piazza nostra signora dell'orto a chiavari dal direttore dell'asd 4 paolo petreria al vescovo diocesano monsignor giampio devasini accompagnati dalla musica del gruppo organizzato dalla filarmonica di chiavari con la presenza della cantante giulia cancedda la consegna dei premi e le testimonianze toccanti di chi il covid lo ha visto negli occhi e lo ha combattuto il covid si è presentato in un modo diverso ci ha costretto a rivedere un pochino le nostre le nostre abitudini i nostri ritmi è stata un'esperienza forte che però abbiamo affrontato in gruppo in squadra con con l'aiuto di tutti e con tanto impegno tutti non solo chi ha lavorato nei reparti covid ma anche chi ha mantenuto garantito tutti gli altri servizi hanno dimostrato grande capacità professionalità senso del dovere e la collaborazione di tutti è stata fondamentale un premio alla memoria è stato poi riservato ad emilio brigno le chirurgo del villa scassi morto dopo aver contratto il virus mentre lavorava sul campo per la prima volta poi l'esculapio è stato assegnato anche a chi ha dato una mano nell'ombra come barrellieri il premio è andato giancarlo longinotti quest'anno purtroppo l'emergenza determinata dal covid ha creato un clima che ha reso fondamentale l'apporto che medici infermieri e ausiliari hanno dato e quindi direi che proprio è una celebrazione importante che dà veramente un significato ancora più ancora più importante se vogliamo alle scuole a Piodoro. A Rapallo hanno preso il via questa mattina i lavori di asfaltatura urgente in via Diaz e via Roselli l'intervento terminerà mercoledì e prevede l'interruzione temporanea del traffico dalle 8 alle 20. Si tratta delle prime asfaltature su 2,5 chilometri totali di ripristino e realizzate da autostrade come rimborso danni. Mercoledì, giovedì e venerdì il cantiere si sposterà in via Torino con traffico bloccato sempre dalle 8 alle 20. Ora siamo all'informazione religiosa il Papa L'Angelus ha ricordato che all'invito del Vangelo si deve rispondere con gratuità e senza calcoli e poi ha sottolineato la fede è matura se al centro c'è Dio e non i nostri bisogni. Sentiamo. Perché cerchiamo il Signore? Quali sono le motivazioni della nostra fede? Sono queste le domande che Papa Francesco rivolge ai fedeli all'Angelus. Abbiamo bisogno, spiega il Pontefice, di capire quali sono le motivazioni della nostra fede perché tra le tante tentazioni, afferma il Papa, ce n'è una che potremmo chiamare tentazione idolatrica. È quella che ci spinge a cercare Dio a nostro uso e consumo. Per avere grazie a Lui quello che da soli non riusciamo ad ottenere per interesse, ma in questo modo la fede rimane superficiale. E anche, mi permetto la parola, la fede rimane miracolistica. Cerchiamo Dio per sfamarci e poi ci dimentichiamo di Lui quando siamo sazi. Al centro di questa fede immatura non c'è Dio, ci sono i nostri bisogni. Francesco poi pone un'altra domanda, quella che la folla rivolge a Gesù. Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù indica la strada, risponde che l'opera di Dio è accogliere colui che il Padre ha mandato. Questo, sottolinea infine, il Papa vale nei riguardi di Dio, ma anche nelle nostre relazioni umane e sociali. Quando cerchiamo soprattutto il soddisfacimento dei nostri bisogni, rischiamo di usare le persone e di strumentalizzare le situazioni per i nostri scopi. Quante volte abbiamo sentito da una persona, ma questa usa la gente. E poi si dimentica usare le persone al proprio profitto. È brutto questo. È una società che mette al centro gli interessi invece delle persone. È una società che non genera vita. L'invito del Vangelo è questo, piuttosto che essere preoccupati soltanto dal pane materiale che ci sfama. Accogliamo Gesù come il pane della vita. Vediamo in Diocesi, nella prima domenica d'agosto, la comunità di Carnevale in Val Fontanabuona ha celebrato San Giacomo e quest'anno lo ha fatto accogliendo in un clima di festa il nuovo Vescovo. Vediamo. Piccolissima frazione di un piccolissimo comune, abitato da gente ospitale, semplice, laboriosa e generosa. Salutando il Vescovo, il sindaco di Coreglia Ligure presenta così la comunità di Carnevale. Qui tutti si conoscono. L'auspicio del primo cittadino è che la familiarità di questo luogo possa trasformarsi in opportunità, un motivo per far sì che l'esigenza di uno diventi il bisogno di tutti. Di qui l'invito a Monsignor Giampio di sentirsi a casa, la stessa nella quale nacque Giovanni Chichizola, il povero contadino cui apparve la Vergine di Montallegro nel 1557. Dal sagrato restaurato da poco, la festa si è spostata poi in chiesa, dove il Vescovo ha presieduto la messa per San Giacomo, una delle celebrazioni più tipiche della Fontana Buona. L'apostolo muore martire pur di testimoniare la sua fede, ricorda De Vasini, un esempio per tutti ancora oggi di chi ha posto le basi della propria vita non sui beni materiali, ma su Gesù, che chiede di farsi cibo per gli altri, per raggiungere una qualità della vita così elevata da superare le barriere della morte. Gesù, dice il Vescovo nell'Omelia, è l'unica compiuta risposta al desiderio di senso, pienezza e felicità che abita al cuore di ogni uomo. Le cose non bastano mai, le persone non colmano la vita e se ne vanno e ci condizionano e dicono accontentati di noi. Ma, come scrive Kierkegaard, l'uomo è un crepaccio assetato di infinito e questa sete, soltanto Cristo Gesù la può soddisfare, soltanto Lui che si fa pane da mangiare nella parola, che si fa pane da mangiare nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Cambiamo tema, novità in vista per il prossimo anno scolastico per l'asilo Gibirocca di Cogorno. A settembre, infatti, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, torna operativo l'orario prolungato, con ingresso alle 7.30 e uscita alle 17. Intanto la struttura, gestita dalla Fondazione Parrocchiale, si è fermata per la pausa estiva e ha tracciato un bilancio dell'anno appena trascorso. Sentiamo. Un anno complicato, difficile a causa della pandemia, ma non per questo meno bello e meno ricco di doni. Per l'asilo Gibirocca di Cogorno, con la fine di luglio, è arrivato il tempo delle vacanze estive. La struttura, gestita dall'omonima Fondazione, è stata la prima del Tiguglio a riaprire le sue porte a settembre per accogliere i piccoli e una delle ultime a fermarsi per la pausa estiva. Adesso, per alcune settimane, le aule, il salone e il grande parco resteranno nel silenzio, un'occasione per svolgere alcuni piccoli lavori di manutenzione ordinaria, che restituiranno a settembre una struttura altrettanto accogliente e confortevole. Riprenderemo l'anno prossimo il primo di settembre, col prossimo anno scolastico intendo dire, e ci sarà un'offerta formativa che riguarda sia la sezione primavera, che come sapete sono i bimbi dai 2 ai 3 anni. Abbiamo una sezione primavera di 15 bambini, che può arrivare fino a 20, e poi altre tre sezioni della scuola dell'infanzia, con fino adesso 20-22 bambini, potremmo arrivare fino a 25, quindi questo è anche un di vita alle persone che desiderano, a sapere che c'è anche posto per loro nella nostra scuola, che come vedete è una scuola un po' unica nel suo genere e nella sua bellezza, il parco esterno, le aule all'interno, il salone molto spazioso. Tra le novità del prossimo anno scolastico ci sarà il ripristino del prolungamento dell'orario per venire incontro alle esigenze delle famiglie con l'ingresso anticipato alle 7.30 e uscita posticipata alle 17.00. Tutte le informazioni e i moduli per le iscrizioni sono a disposizione sul sito scuolainfanzia gbrocca.it. In questo tempo di pandemia non è stato facile per la struttura garantire il servizio scelto da una sessantina di famiglie del comprensorio, a far sì che tutto sia andato per il meglio il grande lavoro di squadra di tutto lo staff. Ringrazio tutte le famiglie che ci hanno dato fiducia e che ci hanno affidato i loro bambini e dopo un anno nel quale ringrazio in modo particolare tutto, tutto il personale dall'amministrativo fino al personale docente, al personale che si occupa delle pulizie, delle sanificazioni, al personale di cucina. Davvero sono molto, molto grato a loro. A Rezzoaglio il presidio di Libera contro le mafie Nicolas Green del Tiguglio ha organizzato l'evento Riscopriamo il territorio. Una giornata di impegno, formazione e benessere, ospiti del consorzio della quarantina. È intervenuto anche Massimo Maugeri di Legambiente. Tra le attività effettuate ci sono state la pulizia di un sentiero in località Cerisola, un'attività di formazione sulla valorizzazione dell'agricoltura locale, ma anche la cura e il recupero del territorio. Adesso c'è la rassegna stampa, ci ritroviamo subito dopo con gli aggiornamenti. L'Italia è d'oro, questo è il titolo del secolo XIX con l'immagine dei due campioni olimpici Jacobs e Tamberi. Appunto, impresa storica degli azzurri, Jacobs trionfa nei centometri piani Tamberi nel salto in alto. Così i due prometei ci regalano la luce del sogno, euforia plomb e i due volti della stessa gioia. L'azzurro texano e il papà ritrovato, si parla naturalmente di Jacobs e Jumbo, ovvero Tamberi. Superman ha imparato a volare due volte. E poi naturalmente si parla anche di politica, giustizia. Bagari in aula, il governo pone la fiducia. Alla Camera molti assenti e tanti distratti dalle Olimpiadi. Poi tensioni tra 5 Stelle e fronda di 40 parlamentari. Stasera il voto sulla riforma Cartabia. E anche sul Monte dei Paschi di Siena c'è grande bagarre politica. Draghi va avanti e non concede sponde, lite tra Salvini e il Partito Democratico. Emergenza coronavirus, immunità più vicina, vaccinati 6 italiani su 10, cure e ricoveri arretrati, 60 milioni dalla Liguria per la sanità post-Covid. E sanità privata invece nel Tiguglio, Casa della Salute. A fine agosto l'inaugurazione in Corso Garibaldi a Chiavari. E adesso andiamo invece a vedere le pagine interne del secolo XIX. E sempre con Chiavari, scolmatore difesa costiera, le priorità di Capua Blinda, i progetti del Comune su questi due fronti di salvaguardia del territorio. Parco di Portofino, le osservazioni del Comune verteranno sulle due opere da 35-14 milioni, decisive per la salute e la sicurezza della città. Appunto lo scolmatore del Rupinaro e poi nuovi previsti, i pannelli sulla difesa del litorale chiavarese. E ancora aumento dei canoni demaniali, si cerca una soluzione tampone, le imprese di pesca e agricoltura potrebbero formare anche dei consorzi. Andiamo invece a parlare di pesca. Lo stop dell'Unione Europea alla pesca del gambero, un danno enorme per Santa Margherita Ligure. La rabbia di Carpi, presidente della cooperativa armatore e moto pescherecci, proteste anche da Sestri Levante, sarebbe impedita la pesca allo strascico che appunto porta a pescare 200 kg di gamberi al giorno. 17 pescherecci della marineria sanmargheritese, 10 quelli che praticano proprio questo tipo di pesca. Subito in redazione adesso per gli aggiornamenti con Andrea Capitani. A te Andrea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. A Varese Ligure si è costituito il Comitato Cittadino per il Mantenimento in Capo al Comune dell'Acqua Pubblica. L'Assemblea era stata convocata per spiegare la situazione e fare il punto sulla cessione ad Acam IREN della gestione del servizio deliberato dall'attuale amministrazione comunale. Dovrebbe partire a breve anche una raccolta firme contro questa decisione. Hanno partecipato alla riunione oltre ai tre consiglieri di minoranza del gruppo Varese per il bene di tutti, anche il sindaco del Comune di Berceto, Luigi Lucchi e Rino Tortorelli del Comitato Spezzino Acqua Bene Comune. È tutto, a te la linea. Bene, grazie. Si chiude qui questa edizione del telegiornale. Ci ritroviamo questa sera alle 19.15 sempre con Tigulio Oggi. Vi ricordo che questa sera in prima serata alle 21.10 trasmetteremo la serata di consegna dell'Esculapio d'Oro venuto a Chiavari in piazza Nostra Signora dell'Orto di cui avete visto il servizio. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.